Ciao, siamo tornati con la serie Origini con il secondo tema. Il tema di oggi è l'origine della vita. In Romani capitolo 1, versetti 19 e 20, l'Apostolo Paolo parla di un disegno intelligente, ovviamente non con questo tipo di linguaggio, ma il concetto di cui parla è esattamente questo. Notate che Paolo dice che gli attributi invisibili di Dio, il Creatore, sia il suo potere eterno che la sua divinità stessa, si riconoscono chiaramente dall'inizio del mondo, essendo percepiti dalle cose che sono state create, ossia, egli parte dall'idea dell'impronta digitale per colui sul quale ha impresso l'impronta digitale. È più o meno come la scienza forense. Gli investigatori, quando vogliono scoprire indizi su un criminale che ha commesso un reato, cercano ciocche di capelli, macchie di sangue, tracce organiche sulle quali potrebbero fare l'esame del DNA. Insomma, raccolgono i materiali, li portano tutti in laboratorio e sovente riescono a risolvere un crimine. Per la verità, questo illustra ciò che noi chiamiamo come argomento teleologico. Così come abbiamo visto nell'episodio numero 1, l'origine dell'universo riguardo all'argomento cosmologico, anche l'argomento teleologico si compone di tre proposizioni che formano ugualmente un sillogismo. La prima dice così, tutto ciò che ha un progetto ha un progettista. Questo ci sembra anche abbastanza ovvio, vero? La seconda dice, la vita ha un progetto. In questo caso dobbiamo analizzare un po' di più questa premessa, perché se affermiamo che la vita ha avuto un progetto, dobbiamo concludere, basandoci sulla terza proposizione, che la vita ha avuto un progettista. Se io volessi proporvi un piccolo test e vi chiedessi di osservare con attenzione questa foto che vedete sullo schermo, quello che vedete lì nello schermo è il frutto di un disegno intelligente o di cause naturali? Sono sicuro che rispondereste immediatamente che può essere stato progettato solo da una persona intelligente. E questa risposta ovviamente è quella corretta. È così, perché questa immagine ci rivela che ci sono molte informazioni, ma non sono semplici informazioni, non sono tali. Ci sono informazioni complesse. Non c'è unicamente una faccia, che comunque sarebbe stato davvero qualcosa già di per sé interessante, qualcosa di incredibile, se ipotizziamo che potrebbe essere il risultato del caso. Non c'è però solo una faccia, ma quattro facce, una composizione complessa. Non ci sono esclusivamente quattro volti, ma sono quattro facce di persone che sono esistite, sono presidenti americani. Quindi si tratta di un'informazione complessa e specifica. Tutti sanno o dovrebbero sapere che informazioni complesse e specifiche non vengono dal nulla, dipendono da una sorgente di informazioni. Immaginate che ora state camminando su una spiaggia e vi imbattete in una parola scritta sulla sabbia. Arriva un burlone e vi dice che questa frase, questa parola, è apparsa milioni di anni fa ed è causata dalle maree, dagli spostamenti del vento, che hanno disposto diverse particelle di sabbia per formare questa parola. Sono sicuro che non accettereste questa spiegazione. Ogni informazione, lo ripeto, presuppone una sorgente di informazioni. Ora, mettiamo da parte queste cose semplici e pensiamo a qualcosa di più complesso. Vorrei usare come esempio di complessità proprio un'ameba. Notate che nel nucleo di un'ameba ci sono tante informazioni come in 30 volumi dell'enciclopedia britannica, nel nucleo di un'ameba che è invisibile a occhio nudo. Andiamo ancora avanti nella scala della complessità e pensiamo al genoma umano. Se fosse stampato come le guide telefoniche, il genoma umano formerebbe una pila di volumi alti circa 170 metri di altezza, poco meno della metà del pan di zucchero. Eccolo nella foto. Notate che questa è la dimensione delle informazioni contenute nel vostro genoma. Ovviamente è molto impressionante, ma c'è di più. Ricercatori dell'Università di Harvard, negli Stati Uniti, sono riusciti ad immagazzinare 70 miliardi di copie di un libro, cioè oltre 50.000 terabyte di informazioni, ovvero 10 milioni di DVD. Sapete come? in un grammo di DNA. Con soli 4 grammi di DNA si riuscirebbe a memorizzare tutti i dati digitali prodotti dall'umanità in un anno. Chi è il maggiore specialista di archiviazione, crittografia e compressione di informazioni? La risposta è il creatore del DNA. Guardate, se pensiamo in questo momento alle prove macro e micro, ne abbiamo effettivamente trovate molte. Parlando un po' delle prove macro dell'esistenza di un progetto intenzionale nella natura, nella creazione, riflettete assieme a me sul sistema Sonar, ossia il Sound Navigation and Ranging, un sistema effettivamente molto complesso. È interessante che sia stato messo in produzione in larga scala ben dopo il naufragio del Titanic nel 1912. Fu necessario investire molti soldi e ovviamente molto ingegno per sviluppare un sistema che era relativamente nuovo nei mari. Ebbene, il sistema del Sonar è stato utilizzato da migliaia di anni in modo molto efficiente, da almeno due animali. Menzionerò solo due. Diversi altri nella natura usano questo sistema, ma voglio ricordare due che sono, secondo la concezione evoluzionistica, ben separati nel supposto albero evolutivo della vita. Il delfino e il pipistrello. Entrambi usano lo stesso identico gene chiamato Prestina per orientarsi attraverso un sistema così complesso che è il Sonar. Entrambi, sia i pipistrelli che i delfini, producono una proteina chiamata Prestina con le stesse caratteristiche strutturali. La Prestina ha le stesse funzioni in queste due specie distinte. La domanda è se la teoria dell'evoluzione è corretta. Com'è possibile che due specie così distinte e che non sono correlate nello sviluppo evolutivo hanno potuto sviluppare entrambe nello stesso modo la stessa proteina, lo stesso gene mutato che codifica la stessa funzione? È davvero qualcosa difficile da capire. Se i Sonar utilizzati nella navigazione richiedono intelligenza e soldi per essere fabbricati, per quale ragione i Sonar del delfino e del pipistrello non avrebbero richiesto ugualmente intelligenza per essere messi in funzione? Pensate ora al GPS così importante ai nostri giorni, un sistema per il posizionamento globale e fu dichiarato pienamente operativo solo nel 1995 e furono necessari 10 miliardi di dollari di investimenti per mettere i satelliti e mettere in funzione l'intero sistema. Migliaia di anni fa un essere vivente che molti considerano insignificante, la formica, già usava molto bene un sistema GPS ma c'è un particolare. Il sistema GPS dell'uomo consuma energia e riceve informazioni satellitari. Il GPS della formica non pesa quasi niente, richiede poca energia per funzionare e non danneggia l'ambiente. Il nostro pianeta è magnetizzato e le formiche percepiscono questo magnetismo grazie a sensore sulle antenne quindi traducono tali informazioni e le inviano al cervello che codifica tutto questo. E cosa pensate di questo sistema? È avvenuto per mutazioni fortuite, casuali, è nato per caso o è stato progettato così come il sistema GPS a cui l'essere umano fa affidamento ma che non è poi così efficiente come il primo? Pensate ora alle valvole. Quando osservate una valvola arrivate alla conclusione che è stata progettata o che è il risultato di un insieme casuale di materiali e metalli? Bene, ora vorrei parlare un po' di un animale che ha piccole valvole super precise e delle quali dipende per vivere. La giraffa. La giraffa è così, diciamo, ha la testa talmente in alto che il suo cuore ha dimensioni molto grandi per poter pompare il sangue al cervello ma nel momento nel momento in cui abbassa la testa per bere l'acqua se non ci fosse davvero un sistema molto efficiente di valvole lungo tutto il collo avrebbe istantaneamente un ictus e morirebbe. Nel momento in cui alzasse la testa qualora sopravvivesse all'ictus avrebbe una caduta di pressione improvvisa e nella maggior parte dei casi potrebbe anche morire. Come risolve la giraffa questo problema? Lei ha, come ho detto, un sistema di valvole interconnesse lungo il collo che regolano la pressione sanguigna permettendo al sangue diciamo di fluire nella quantità corretta quando la testa si abbassa e anche quando si alza permette a quel sangue di scendere un po' alla volta. Un sistema di valvole preciso, proprio lì, ben studiato in modo che possa vivere. Cosa ne pensate di questo? Prove micro. E continuando passiamo un po' alle prove del mondo microscopico ovvero le prove micro. Osservate queste foto sul vostro schermo. Cosa pensate che sia? Sembrano addirittura dei quadri moderni. Bellissimi, vero? Osservate quest'altra con bei colori. Quest'altra qui. Ancora un'altra. Un'altra ancora. Sono ali di farfalla ingrandite da 7 a 17 volte. Qualcosa di meraviglioso. Ma vorrei spostarmi su qualcosa di ancora un po' più piccolo. Andiamo ad investigare nel micromondo. Pensate ora al DNA. Il DNA, la molecola della vita è composta da 46 ogni cellula è composta da 46 cromosomi umani. Ci sono due metri di filamento di DNA. Ogni filamento è composto da circa 3 miliardi di basi ovvero le famose adenina, citosina, guanina e timina e approssimativamente 30.000 geni che codificano le proteine essenziali per il funzionamento del corpo umano. Tutto questo è memorizzato in una cella davvero minuscola con molte informazioni. Ma c'è molto di più. Il genoma umano. Il genoma adotta un'organizzazione molto inconsueta nota come frattale. L'architettura specifica che gli scienziati hanno chiamato globulo frattale consente alla cellula di impacchettare il DNA in un formato incredibilmente denso che vedete sullo schermo ora. La densità di informazioni raggiunta è trilioni di volte superiore a quella trovata nella memoria di un computer. Immaginate trilioni di volte e questo senza che il genoma si perda o si annodi cosa che invaliderebbe l'accesso della cellula al proprio stesso genoma. Inoltre il DNA può essere facilmente allungato o piegato nuovamente durante i processi di attivazione genetica repressione genetica e replicazione cellulare. Complessità elevata quasi infinita. Ora pensiamo un po' all'enigma dell'ingranaggio. Che cos'è? Alcuni anni fa è stato scoperto in un giacimento di carbone datato si suppone 300 milioni di anni fa un dente di una ruota dentata. Una lega che non si trova in natura e quindi si presuppone davvero che questa lega questo dente può essere unicamente la parte di un pezzo prodotto da persone intelligenti. Ora gli scienziati e evoluzionisti avevano un grosso problema da risolvere. Innanzitutto come spiegare che un pezzo che è chiaramente fatto da persone intelligenti si è incastrato dentro un giacimento di carbone risalente a 300 milioni di anni. Si poteva giungere unicamente a due conclusioni ad una terza che menzionerò dopo. La prima o i dinosauri fabbricavano oggetti come questo dato che gli evoluzionisti non ipotizzano che gli esseri umani vivessero già 300 milioni di anni fa quindi possiamo scartare questa possibilità o i sistemi di datazione possono contenere errori grossolani come in questo caso e il carbone non avrebbe 300 milioni di anni. Ad ogni modo in entrambi i casi le due possibilità non sono molto coerenti con la teoria dell'evoluzione. Risultato dopo aver studiato abbastanza questo tema gli scienziati hanno concluso che questo pezzo avrebbe potuto essere portato esclusivamente da una nave aliena poi perduto qui in mezzo ai sedimenti milioni di anni fa rimanendo intrappolato nel giacimento. Non sembra davvero una buona spiegazione ma cosa ci suggerisce? Che gli scienziati non possono nemmeno loro immaginare che un pezzo possa essere frutto del caso. è sicuro che qualcuno deve averlo progettato. Pensate a un motore a combustione interna un motore rudimentale semplice ci sono cose molto più complesse e ora pensate un po' ai nanomotori una tecnologia all'avanguardia che è stata sviluppata ai giorni nostri un motore che può forse stare sulla punta di un dito molto piccolo beh questo rivela davvero molta intelligenza un disegno intelligente ora migliaia di anni fa alcuni esseri viventi come batteri e persino gli spermatozoi avevano già un meccanismo molto più efficiente rispetto ai motori che ho menzionato i nanorotori che fanno sì che i flagelli i flagelli dei batteri i batteri che hanno questo organolo motorio possono andare in giro e questo motore biologico che funziona con energia elettrica ha una perdita per attrito minima quasi pari a zero ed è molto più efficiente dei motori sviluppati da esseri umani intelligenti che spendono milioni di dollari per produrli e questo motore organico sarebbe il risultato del caso di un disegno intenzionale e intelligente è qualcosa su cui riflettere per la verità pensate che quando analizziamo questo sistema queste questioni ci sono solo due scelte due scelte Richard Dawkins che è considerato come uno dei biologi diciamo uno dei più grandi difensori dell'evoluzionismo oggigiorno una volta detto in un libro L'orologiaio cieco che la biologia è lo studio delle cose complesse che danno l'impressione di avere un disegno intenzionale perché lui quando analizza qualcosa di biologico come una pianta un animale un essere vivente ha l'impressione che sia stato fatto intenzionalmente da qualcuno che è intelligente perché non crede in Dio in realtà Dawkins ha già scelto a priori per lui Dio non esiste quindi ha bisogno di trovare un'altra spiegazione per il fatto che ci sia un disegno di natura intenzionale nel creato l'affermazione più critica fu tuttavia fatta da Francis Crick che è uno scienziato ancora più rispettato e famoso di Richard Dawkins Crick ha scoperto insieme ad un collega la doppia elica del DNA Crick diceva quanto segue i biologi devono sempre tenere presente che quello che vedono non è stato pianificato ma si è evoluto perché devono sempre averlo in mente perché la loro mente può forse indirizzarsi in un'altra direzione e devono quindi concludere che non è stato creato perché noi non crediamo in Dio anche questa è una scelta a priori e per la verità credere in Dio o non credere nella sua esistenza non sono realmente scelte scientifiche sono scelte basate sulla fede nella filosofia quindi quelli che non credono devono avere sempre in mente che quello che studiano anche se rivela un disegno straordinario non è stato creato si è evoluto perché? perché noi non crediamo nel creatore ci sono altri scienziati che hanno raggiunto conclusioni differenti vorrei citarne solo due uno è Francis Collins che fu direttore del progetto Genoma un grande scienziato contemporaneo e famoso pensate che ha dedicato dieci anni della sua vita investigando il genoma umano e da un certo momento ha concluso che non poteva continuare ad essere ateo nell'analizzare così tanta complessità un disegno talmente intelligente poi è diventato cristiano e ha scritto un libro Il linguaggio di Dio un altro scienziato fu Anthony Flew che scrisse un libro fantastico una specie di testamento con il titolo Dio esiste perché? perché ha avuto il coraggio di seguire le prove ovunque arrivassero Flew ha difeso l'ateismo per tutta la vita ed è considerato come il più grande filosofo ateo del ventesimo secolo ma in fin di vita ha avuto il coraggio di ripensarci basandosi sui dati cosmologici e teleologici che stiamo vedendo proprio in questa serie ha riconsiderato la sua posizione ed è diventato cristiano è possibile tramite la scienza arrivare alla conclusione che c'è un creatore dietro alla creazione un altro famoso scienziato direttore del laboratorio Thomson presso l'università di Campinas e presidente della società internazionale di spettrometria di massa il dottor Marcos Eberlin ha avuto il coraggio di presentare come si vede nella foto sullo schermo un banner adesivo sulla finestra del suo laboratorio che dice non ho antenati scimmie ma sono un figlio del Dio creatore scienziati che credono sì questo è molto possibile perché sono esseri umani e gli esseri umani come disse Ecclesiaste 3.11 furono creati con il desiderio della trascendenza di trovare qualcosa al di là di quello che vediamo qui come ha scritto l'ex ateo C.S. Lewis tutto ciò che non è eterno è eternamente inutile che Dio vi aiuti a cercare quello che ha davvero senso e che voi possiate in questa ricerca trovare le risposte che state cercando un abbraccio a cercare Grazie a tutti.